Quindi quando noi vediamo questa larghezza, questa, diciamo così, amplitudine che parte dalla cellula e va all'infinito. Quindi in realtà troviamo in quel punto, quindi per esempio questo punto è la nostra cellula, però in questa cellula si contiene l'intero infinito. Ad esempio noi diciamo che quando vediamo una persona noi fin da subito vediamo il valore nell'infinito. In questo punto e in questa percezione, in questo punto che noi percepiamo, noi troviamo la soluzione per normalizzare la salute di una persona. Ora facciamo questo controllo per tutte le persone presenti seguendo l'elenco delle persone. Quindi, per esempio, Noi ad esempio percepiamo il valore dell'anima nell'infinito, ma contemporaneamente, guardando per esempio la norma di una persona, noi percepiamo anche il valore di ogni cellula di questa persona nel corpo di quella persona nell'infinito contemporaneamente. E dovremmeno escire in sferi, da dove? Perché la salute è una legge, la salute è sempre un valore infinito. Noi ogni�, ma secondo pedo è un valore dell'anima, all'infinito.